Perché fare l'esordio dal primo minuto in campionato in un palcoscenico come il Curi non era facile, farlo con la personalità che hai dimostrato, quindi ti diciamo bravo. E che peccato quel palo nel secondo tempo, partiamo da lì. Purtroppo la palla non è entrata, sarebbe stato bellissimo comunque segnare l'esordio in uno stadio così. Poi comunque io sono al pescarato da tanti anni, quindi fare il primo gol in prima squadra sarebbe stato bellissimo, però è andata così. Partiamo da un'ora prima della partita, sul Pullman Zeman ti dice giochi tu. E' stato, mi sono sentito molto emozionato quando il mister mi ha dato la notizia, però diciamo che in questo sport bisogna mantenere la calma e stare concentrati perché se no in campo si possono fare brutte figure. La partita, raccontacela. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molto e forse abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo che ci siamo creati, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Ti chiedo un'ultima cosa, sul centrocampo è piaciuta molto l'aggressione con i tempi giusti sul portatore di palla del Perugia, dalla prima aggressione di Squizzato è nato il gol del vantaggio, da un'altra aggressione il tuo palo è la strada giusta? Sì, è quello che ci chiede il mister di andare a prendere sempre l'avversario alto, di attaccarci al riferimento, quindi noi cerchiamo di mettere in pratica tutto quello che ci dice perché appunto funziona ed è la strada giusta.